Con l'applicazione quiz patente tradotto che potete scaricare gratuitamente installandola sul vostro smartphone e consultarla in 102 lingue in questo video analizziamo dei quiz per argomento che sono i primi da studiare rispetto alle schede d'esame a tempo all'interno dei segnali di obbligo il segnale catene da neve obbligatorie vediamo prima cosa ci dice il nostro manuale su questo segnale obbliga subito dopo il segnale non indica quindi la progressiva chilometrica a montare le catene sulle ruote motrici anteriori o posteriori a seconda del tipo di veicolo o gli pneumatici invernali e vieta il transito ai veicoli che ne sono sprovvisti il segnale si trova su strade innevate o ghiacciate ove occorre procedere con particolare prudenza è sbagliato dire che è vietata la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con battistrada inferiore a 3 mm a prescindere dallo spessore occorre invece che siano degli pneumatici invernali il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada ovve occorre procedere con particolare prudenza si tratta infatti di un tratto di strada innevato o ghiacciato quindi con la possibilità di perdere aderenza e slittare quindi bisognerà tenere una velocità particolarmente moderata vero il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con catene è il contrario consente la circolazione solo ai veicoli muniti di pneumatici con catene o di pneumatici da neve quindi la risposta corretta è falso il segnale raffigurato presegnala la progressiva chilometrica oltre la quale è obbligatorio l'uso delle catene la risposta corretta è falso il segnale raffigurato con pannello integrativo indica la distanza a cui si trova un'officina per montare le catene non è un segnale di indicazione e tra l'altro non esiste un segnale che indichi un'officina dove poter montare le catene risposta corretta falso il segnale raffigurato prescrive di circolare con catene o pneumatici invernali ricordiamoci che le catene vanno montate sulle ruote motrici e le ruote motrici sono quelle collegate al motore quindi bisognerà sapere dal libretto di uso e manutenziario del veicolo quali sono le ruote motrici del nostro veicolo mentre gli pneumatici invernali vanno montati su tutte le ruote la risposta corretta è vero il segnale raffigurato si trova su strade che in particolari condizioni sono innevate o ghiacciate risposta corretta vero il segnale raffigurato vieta la circolazione a veicoli muniti di pneumatici con spessore del battistrada inferiore a 3 mm non è in questione lo spessore del battistrada ma il tipo di pneumatico quindi occorre avere montati pneumatici da neve oppure montate le catene sulle ruote motrici la risposta corretta è quindi falso il segnale raffigurato indica che la circolazione è consentita solo con catene o pneumatici invernali risposta corretta vero il segnale raffigurato consente il transito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici invernali risposta corretta vero il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto risposta corretta falso il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali risposta corretta vero possiamo controllare tutte le nostre risposte nell'elenco finale se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo iscrivetevi al canale per essere informati di ogni nuovo caricamento queste tre operazioni ci sarebbero gradite in quanto contribuiscono alla crescita del canale e la sua visibilità su youtube se avete dei dubbi su qualche quiz analizzato in questo video non esitate a mettere un post sotto il video e noi vi risponderemo sicuramente arrivederci e buono studio a seconda a Grazie a tutti